Blitz antidroga stamane sull'asse Calabria-Toscana per sgominare un'organizzazione accusata di aver importato cocaina dal Sud America. Nel corso dell'operazione Aquarius della DDA di Firenze, che ha visto operare congiuntamente i carabinieri del comando provinciale di Livorno e la Guardia di Finanza di Pisa, sono stati sequestrati 134 chili di cocaina destinata al porto di Livorno. Le indagini hanno permesso di accertare che il livornese Riccardo Del Vivo si sarebbe posto al soldo del crampi romali di Gioia Tauro, pagato mensilmente 20.000 euro per mettere a disposizione la propria organizzazione, composta da Toscani, appena un nuovo carico di cocaina fosse entrato nel porto di Livorno. Il gruppo livornese per conto dei calabresi avrebbe quindi recuperato i carichi di droga dai container sbarcati a Livorno. Incontri fra il gruppo toscano dei pesci e gli emissari calabresi si sono tenuti anche nel cimitero dei lupi di Livorno. Incontri in stile mafioso per i magistrati, fatti tra le tombe del cimitero e passeggiando tra le lapidi. I narcotrafficanti pensavano di essere al riparo da orecchie indiscrete, ma non avevano fatto i conti con gli investigatori dell'arma e delle fiamme gialle, che alla fine sono riusciti a filmare e monitorare tutto, incastrando l'intera organizzazione. Da Vibo Valencia per la CNews24